L'accordo con il centrodestra viene dato già per certo dai ben informati e c'è chi è pronto a scommettere che i tweet di chi scriveva mai con la destra sono pronti a invecchiare malissimo. Ma se in Sicilia l'asse Italia Viva, Forza Italia è già realtà, dalla Puglia la senatrice originaria di Ceglie, Teresa Bellanova, smentisce categoricamente. Fui tra i fondatori di quel PD che poi per inseguire il Movimento 5 Stelle ha perso di vista la propria natura. La vice ministra alle infrastrutture lo dice da Taranto nel corso di un'assemblea con le sezioni locali del partito. Abbiamo un gruppo dirigente in questo territorio davvero molto attivo e nelle elezioni amministrative si è visto che è stato presente e anche con risultati per noi molto importanti. Adesso si rilancia, si riparte con un programma di iniziativa dove andiamo ad incontrare le persone per discutere di quelle che sono le nostre proposte e del lavoro che stiamo facendo. Una realtà che è cambiata molto negli anni. Lei conosce molto bene la città, le vertenze lavorative. Oggi il turismo la fa da padrone. Bisognerà continuare in questo senso. Italia Viva a che posizione ha? Ma Italia Viva è una posizione che è quella che guarda lo sviluppo dei territori in modo abbastanza complessivo perché c'è sicuramente il turismo che è importante e tant'è che stiamo lavorando anche fortemente per esempio sul porto, sul rendere sempre più green i porti. Nelle ultime ore molto si discute di quello che sarà il prossimo candidato a sindaco di Taranto. Ormai le forze di centro-sinistra sembrano convergere sulla riconferma del 9 di Melucci. Voi che ne pensate? Noi non facciamo tanto una questione di nomi quanto di programmi, progettazione. Se il centro-sinistra gradisce come speriamo di dialogare con noi e ci sediamo su un tavolo di concertazione? Perché no?